... sull'esame di maturità, studenti davanti al MIUR nel giorno dello sciopero del personale della scuola. Fermo il trasporto pubblico del sindacato CUB. E oggi possibili disagi nei trasporti pubblici per uno sciopero nazionale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base. Massimo Tinagli. Trasporto a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dalla Confederazione Unitaria di Base. Il servizio pubblico resterà comunque garantito nella fascia dalle 17 alle 20. Nella prima parte della giornata nella capitale qualche disagio si è registrato sulle linee di bus tram e la Roma Lido con riduzione di corse e lunghe attese davanti alle fermate, soprattutto alla stazione Termini e Tiburtina. Per il momento è un'ora, per il momento sì. La vedo ancora un pochino lunga, non è la prima volta. Avere dei servizi non funzionanti non va proprio bene. Vengo da Portonaccio e ci abbiamo messo un bel po' di tempo. Sono sempre pieni questi autobus. Tanto comunque cammino a piedi, preferisco camminare. Tra le rivendicazioni del sindacato, il blocco dei licenziamenti, il prolungamento della cassa integrazione e maggiori risorse da investire sulla sicurezza. È sicuramente necessario un potenziamento e un investimento che consenta la moltiplicazione dei mezzi e di interventi necessari che possano garantire un affollamento in sicurezza nel rispetto dei passeggeri e anche nel rispetto della tutela della salute dei lavoratori. Lo sciopero che terminerà alle 21 coinvolge anche la scuola, l'università, la sanità pubblica e privata, tra poste e il trasporto aereo. Si indaga da Cilio alle porte di Roma per l'agguato ad un 44enne romano ferito gravemente. Oggi lo sciopero indetto del sindacato di base CUB. Paolo Gila. A Cadorna ha soppresso il treno 3 nord per Varese delle 17.30 e quello per Comolago delle 18.00. Metropolitana aperta e traffico passeggeri fluido. Qualche mezzo di superficie è andato in deposito durante il giorno. Disagi limitati per i pendolari. La temuta paralisi dei trasporti non c'è stata. Lo sciopero generale dei CUB, proclamato a livello nazionale, ha avuto una bassa adesione tra il personale dei trasporti, pubblici milanesi e lombardi. Durante la mattinata si è svolta una manifestazione in Largo Cairoli, dove i sindacati unitari di base hanno protestato contro le iniziative del governo che penalizzano il mondo del lavoro. All'emergenza sanitaria si sommano le difficoltà economiche per vaste categorie di persone, come i precari, i cassi integrati e i disoccupati. ATM ha invece confermato che a causa della pandemia e del ricorso allo smart working per una buona parte di impiegati, il traffico passeggeri sull'intera rete milanese è pari al 40% del volume che si era registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. L'impatto dell'emergenza sanitaria Trasporti, aerei, pullman, treni a rischio, partecipano Ferrovie dello Stato e Italo. A Napoli non sono coinvolti autobus ANM, le linee EAV e la linea 1 della metropolitana. Rallentamenti e cancellazioni possibili invece sulla linea 2 che appartiene al gruppo Ferrovie dello Stato.